In un caso, proprio ammalato. Dopo che non ammalato la sveglia? Quanto forte, non so? Più grande. 52 anni che ne fattavano le campagne. Nel'altro. Andrivi il cesso di cortile lì. A nebbia. Andrivi il cesso di cortile. 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 Cosa? Non c'è la parte. Morgoddio! A cupa. Ma non ci ha liked. Non è più la volta che trovavo questo. Accusate? Se si è normale a parte. No.